Ciao a tutti, mi chiamo Simona e sono iscritta al corso di pasticceria Digilio Academy e ho deciso di fare questo video perché mi sembrava il minimo che io potessi fare per ringraziare il nostro maestro chef Andrea Digilio per averci trasmesso le sue conoscenze nell'ambito della pasticceria. Personalmente ho trovato molto efficaci e utili i suoi video e i suoi file riguardo a tutte le tecniche, ricette nell'ambito della pasticceria quindi sono riuscita a realizzare prodotti di livello altamente superiore rispetto a prima tipo questa patashu che ho realizzato oggi in giornata per cui consiglio a tutti voi l'iscrizione a questi corsi che di sicuro daranno una marcia in più finale ai vostri prodotti e alle vostre realizzazioni. Ringrazio tutti, ringrazio lei, chef Andrea Digilio la ringrazio dal profondo del cuore perché veramente sono riuscita a migliorare tantissimo le mie realizzazioni. Grazie, ciao! Ciao, ciao!